...como salvatore Gesù Cristo. Oggi, il 25 dicembre, tutti i cristiani celebrano la nascita di Gesù Cristo. E lui, il Cristo, è il centro di tutte le festività natalizie. Quindi non Babbo Natale o i regali o le luminarie tipiche di questo periodo. Peraltro la festa del Natale non è stata celebrata subito dai cristiani. Le prime notizie riguardano il III secolo. Santipolito ne parla appunto all'inizio del III secolo. Perché al centro della fede cristiana c'è la Pasqua, la redenzione operata da Cristo, la sua passione, morte e risurrezione. E il Natale ne è l'anticipo, l'inizio di tutta questa opera di redenzione. Tant'è vero che nelle icone orientali il bambino sembra avvolto in fascia come se fosse un morto e si trova in una culla che assomiglia a una tomba. E tuttavia il 25 dicembre, giorno di Natale, indica anche uno spartiacque nella storia. Perché il Dio altissimo, il Dio invisibile, si è fatto visibile, si è fatto uomo, si è fatto uno di noi. Come scrive San Giovanni nel suo prologo, il verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Grazie. Grazie.